La fiaba è l'apparente povera del mito, è un po'... Quando ho iniziato il primo libro fu quello di Andersen Questo libro di Andersen mi ha completamente stravolto perché io volevo un libro che mi facesse addormentare e mi ricordo che quella notte io non dormì perché poi tutte le fiabe iniziavano comunque avevano all'interno sgozzamenti, ammazzamenti avevano cose che dicevo ma può essere... Dicevo ma non è questa la fiaba, ma che libro è? Chi è Filippo Carrozzo? Che cosa fa? Di cosa si occupa? Che cos'è questo fiabe in carrozza? E questa andrebbe messa però Ma potremmo fare così, c'era una volta Avevo memoria sicuramente delle fiabe disneyane raccontate o comunque di qualcosa ma non ricordavo esattamente che cosa quindi... E poi appunto alla domanda come sono fatte le fiabe che cosa sono le fiabe ricercando, intervistando, chiedendo, informandomi ecco ho avuto la possibilità di crearmi un po' di strumenti per navigare in questo mare che è infinito e non accompagnerà l'uomo sempre L'idea poi di raccontare le fiabe in podcast è nata da una necessità, da un bisogno di raccontare a me stesso che l'eroe, il protagonista o comunque l'eroe alla fine nonostante le avversità della vita ce la fa supera le difficoltà riesce a... a seguire la sua strada di vita felice Se siete qui se siete qui è perché... Dunque, se siete qui cioè io mi occupo di... Quindi benvenuti Le fiabe poi che mi piacciono in particolar modo sono quelle che non hanno avuto successo Ecco, di quelle io mi sono innamorato quelle che troviamo ancora impolverate nelle strade di provincia quelle che... che vengono raccontate magari in campagna quando si è finita la raccolta o che sfuggono nei ricordi di qualcuno che ricorda qualche filastrocca o qualcosa Ecco, di quelle fiabe io sono molto innamorato Questo lavoro continuo con la memoria è un lavoro che... che prende tutti che abbraccia tutti da quando siamo bambini ascoltiamo iniziamo ad ascoltare già all'interno della pancia per cui già forse lì iniziamo il nostro percorso di di memoria iniziamo a formarci come come esseri umani esseri viventi Quando pensate per la prima volta avevo intenzione di scrivere una fiaba e messo il cera una volta il visero felice e contenti dicevo a me stesso ma queste fiabe ma come sono fatte e da lì sono iniziati i dubbi come è fatta una fiaba ma come come si scrive una fiaba perché non è facile Ogni volta che si ha a che fare con queste storie c'è sempre un po' la sensazione che di enorme di gigantesco di tutto quello che la fiaba contiene fiaba in carrozza è una piccola raccolta rispetto a quella che può essere l'infinita raccolta di storie di minti di leggende che continueranno ad esistere e chissà magari si racconterà un giorno di un arrastore venuto dalla Puglia che con questa sua maschera bizzarra ha raccontato le storie di tradizione popolare in giro per il mondo in giro per l'Italia chissà e mi descriveranno alto biondo forzuto come Ercole forte e potente lanciava Saette quando raccontava e la sua voce muoveva le montagne ma questa è un'altra storia alla prossima storia ah e come dico sempre e dicevo a me stesso cacchio ma che allora mi son detto forse forse che vi saluto e ciao